Grazie ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sono Zeretto e oggi qui Siamo tornati Signori sulla terza stagione Dello Universe In nostra compagnia in questa nuova serie ci saranno Nuovi personaggi Disa già Disagiati E stiamo parlando di Reptile X99 E il bordellone E Giaspanda Saluta la gente Che tu sei brutto Sanculo Grazie Ci hanno fatto un po' di donazioni Abbiamo un po' di blocchi Roba però fondamentalmente Poca roba Allora si sono fatti subito l'armor in diamond Non capisco per quale motivo Ma Non mi importa Allora Stupido Bene Direi di far qualcosa Allora Tanto Cerchiamo di Spacchiamo qua Generatore Ok C'è lì se lo facciamo in legno E la cobblestone è fondamentale No? Si è vero stesso per le costruzioni Ok Ok Sì sì Fondamentale Fondamentale Signore fondamentale Oh c'è la mucca Eh la mucca Guarda Guarda la mucca Ok è morta No volevo ucciderla io Però zio se tu permetti Ora io faccio la sfida Della cobblestone È vero Mi ero dimenticato Rap togliti un attimo Togliti un attimo davvero Rap togliti togliti No Peccato che non avevamo l'ossidiana Veramente Tu continua Continua a scavare Drake Eh sì però Aspetta ho dovuto aprire Ah beh c'è lui C'è lui C'è lui E facciamo una scavata Che cos'è che ti ha dato? Se ci possiede spi Vabbè allora si è Vabbè ma la tua palla è un distruttore La mia palla è peggio di una uspa Cazzo Efficienza cos'è che ha? Efficienza 5 No 4 Perchè il motivo Togli tutto Cosa fai questi diamanti? Aspetta Cosa fai? Ah ho capito cos'è Vabbè ma siete proprio fanatici di sfide Io non mi ricordo manco quali sono Cos'è che bisogna fare qua? Facciamo a livello del retro? Sì ok va bene Fai a livello del retro Spacca tutto Piccone della madonna Lasciami il mio pezzo Mi sono detto Ma dai Ma io sono un abusivo Lui fa Oh madonna Ma la piantate di spaccarmi sotto il piedi santi Oh 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 Ma non è spliff Non è spliff questo Merda Salta Sali sali No 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 Guarda la micchia Pesce Ma che cavolo vai Ma che cavolo No No Sio Sio No Non ci credo Non ci credo Adesso come ci arriviamo dalla cesta Madonna Il povero sneaky Non si sa per quale motivo Sneaky wiki dog Non ha più il computer Non ci arrivo Ma avete del legno da darmi voi Bestie Io ce l'avrei ma non te lo darai Io ce l'avrei ma non te lo darai Sì raga A me dovete andare a prendere lo legno Guarda affanculo Lo prendo da solo il legno Ma come cazzo Ma l'hai preso tutta te No Eh no eh Io non ho fatto niente eh Sì Raga io non vedo una sega Aspettate che con le shaders non vedo una sega così Aspettate Mi dai del legno Ma hai rotto il cazzo Te lo dico popo Lo so Fai una roba Dimmi La scaletta Sì lo so No la scaletta adesso la faccio io Però Aspettate Oh Eh ti devi un po' Eh po' Guarda Oh E' proprio cagare nelle scalette tu eh Oh Ma come passiamo noi qua Che bella Eh che bella scaletta che avevo combinato eh Merda Ho caduto Madonna santa Lo so che vorreste colpirmi Eh vedi perfetto Guardate avete visto Dobbiamo traslocare tutto il contenuto di sta chest di sotto Vorrei prendere la roba che c'è di sopra Che così io tanto posiziono qua Eh carissimi Come ti cazzo ti chiami? Vabbè io ti chiamo Drake Che è il vecchio nome di Drake Di padre Vai 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 Va bene va bene Vai vai Spom Bordello Spompa Cos'è che hai detto? Ho capito Spompa No Vai alla shop e compra 10 stack di legno Le torce Cosa vuoi fare le torte? Le torce Le torce Le torce Le torce Perché sennò non si guarda Slash MCG È caduto È caduto Adesso La sua non si guarda Slash MCG Ma chi? È mia Mio Mi sembra le hanno un botto di soldi Quanti quanti? Davvero? Oh 400 capi È di 15 litri Di su di bomb 150 Aspetta rispettate che voglio provare a comprare lo smale di un golem Sì ma guarda che si tuffa E stai attento perché secondo me non è vero È un primo E ma infatti io prima guardo un Reptile Manda fanculo tutti quelli che sono in camera che dobbiam registrare Quindi ragazzi direi che il video può finire qui Abbiamo iniziato l'episodio Tu stai zitto che non hai diritto di parlare Tu non hai diritto di parola Va bene? Direi che il video può finire qui Questo qua vuole tipparsi alla cazzo di cane E niente signori Spero vi sia piaciuto Se è così lasciate un bel mi piace Anche la pagina di Facebook Trovate nella descrizione come in tutti i video Iscrivetevi se non lo avete ancora fatto Buonanotte nipoti Al prossimo video Si saluta la gente Bomber Ciao Gusto bella Ciao